ragazzi bentornati sono videogiocatore solitario questo è formula 1 2020 my team carriera con la mattone squadra corse vi ricordo che se non l'avete ancora fatto di lasciare un bel like e soprattutto l'iscrizione al canale grazie importantissima campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video ora siamo prima del weekend di gara in catalonia circuito molto bello a me piace molto complesso molte curve molto tecniche in questi giorni mi stavo allenando per cercare di essere competitivo anche con un sistema di guida elite quindi senza nessun tipo di aiuto alcuno ora per quanto riguarda questa carriera my team ho intenzione di utilizzare quelle che sono aiuti standard ovvero abs si quindi con freno antiblocco il controllo trazione medio e la traiettoria solo nelle curve lo toglieremo non credo in questa in questa serie credo probabilmente o più avanti o nella canela pilota che devo ancora iniziare devo ancora gestire ancora capire come in filarla dentro e nulla noi andiamo ci vediamo direttamente in qualifica sapete che adesso andrò a fare le prove libere per i cavoli miei per fare appunto per capire il ritmo della macchina per capire di fare qualche punto di sviluppo ne abbiamo già 535 non sono pochi e ci vedremo quindi in qualifica e in gara incrociamo le dita sperando che non ricapiti quel bug maledetto abbiamo un obiettivo di finire tra le prime 14 per avere il bonus del nostro sponsor vacanzieri italia 1902 se non vengono male non si vede qui perché è dietro l'abbiamo messo sul sullo spoiler posteriore quindi dagli anzi vi vorrei vi vorrei dire anche che si sta provando io sto provando a migliorare come pilota avendo degli scarsi risultati diciamo che non sono dei miglioramenti questi ma sono degli upgrade che mi sono voluto regalare non ti non ti porta niente in più ma chi lo può sapere no andiamo qui con la precisazione perché sto notando stavo andando adesso in fp1 ho visto questo messaggio ciao boss ho appena terminato una chiamata con i nostri colleghi di onda hanno appena portato a termine un nuovo componente che presto ci verrà inviato potremmo installarlo sul nostro motore ottimo no possiamo provarlo già nella prossima gara quindi non in questa nella prossima credo speriamo di notare un miglioramento se vuoi poi controllare i dettagli di questo nuovo componente consultando la schermata rs ora andando a vedere la schermata rs notato questa cosa che probabilmente a voi non è sfuggita ma a me sì questi sono i miglioramenti che stiamo facendo noi al motore ma questi qua piccolini erano dove potevamo migliorare la ed efficienza e la velocità di gestione sono invece vedete in alto a destra fornitore del motore classe bassa potenza motore ora questi due sono installati come questi due questo ci verrà consegnato giovedì 2 luglio ora non so se è questo che di cui stanno parlando non lo so perché questi sono per la prossimo anno quindi volendo c'è anche un bonus se teniamo lo stesso motore questo voglio proprio verificarlo in teoria queste cose dovrebbero arrivarci o ci sono già arrivate non lo so devo verificare i video precedenti però questo è diciamo il discorso che si faceva con le squadre appunto le scuderie diciamo i team che adottano certo motore vengono diciamo aiutati dal fornitore del motore stesso che sviluppa dei miglioramenti al motore che arrivano poi probabilmente a tutti coloro i quali hanno questo motore quindi a noi all'alfa taurie e all'aston martin racing sono gli unici due che hanno motore honda se non ricordo male credo l'altro era mclaren ma ha cambiato e mecca reno in questo momento a motore reno quindi dovremmo essere solamente noi due noi due più cioè loro due più noi siamo la terza macchina vediamo vediamo sono curioso di vedere se questo giornalmente già arrivato o che cosa vi faccio vedere che la prova libera 2 è subbagnato ma le altre prove insieme alla gara sono tutte sull'asciutto quindi probabilmente cercherò di fare tutti prova libera 1 eventualmente mi tengo giusto due cose da fare in fp 3 per non utilizzare troppo il cambio che sarà cambio per della qualifica della gara evitando la prova libera 2 che tanto subbagnato non ce ne frega nulla dato che la gara non è subbagnata ne manco la qualifica quindi ragazzi piccolo spunto che ho avuto ci vediamo in qualifica ragazzi siamo lì alle qualifiche ho erroneamente schippato prova libera 2 e 3 errore mio pensavo che facendo simula simula prova mi simulasse solo la prova 2 comunque la prova libera 1 l'abbiamo fatta praticamente tutta abbiamo fatto ho fatto due giri a caso di mio giusto per capire un attimo una pista e ho fatto diciamo i tre principali principali programmi col di familiarizzazione strategia di gara e tempo su di qualifica tutti e tre viola molto bene e mi veniva difficile anzi non ero riuscito nelle due gare precedenti a fare viola per quanto riguarda il tempo sul giro per la qualifica adesso è diventato un po più semplice non so se per un discorso di miglioramento di migliorie speriamo comunque andiamo in qualifica tentativo unico ragazzi non un mal non un brutto passo ho cambiato come vedete messo tutti i componenti due per quanto riguarda tubo compressore unità generatore motore riscaldamento cinetica e la combustione interna lasciando le batterie in unità di controllo elettronico perché comunque sono a 40 per cento e cinquantadue possiamo rischiarla possiamo rischiarla dovremmo andare più veloci comunque rischiare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forse con quella diminuzione di potenza riuscivo a fare gareggiare più o meno bene, con questo aumento no. Comunque sia, provando e riprovando, girandomi e rigirandomi, perché qui in Spagna è facile, i cordoli sono un po' tutti cani. Siamo riusciti a piazzare la mattone squadra corsa e la MSC 001 davanti alle Williams, a una As, quella di Magnussen, e alle due Alfa Romeo. Sedicesimi, ragazzi. Tanta roba. A un passo dalle Alfa Tauri, se non avessi compiuto quel mezzo errore, mezzo proprio, nella chicane finale, quei 91 millesimi forse li avrei presi a Kiviat e forse riuscivo a mettermi top 15. Poco male, perché, ripeto, abbiamo una macchina un po' così, tant'è che Luca, come abbiamo rifilato il solito secondo e mezzo, ed è lontanino anche dalle As, dalla As, non tantissimo, un po' più lontano dalle due Alfa Romeo. È riuscito a mettersi dietro la Tiffany un bel po' e anche Russell, però, boh, per la gara la vedo un po' difficile. Ma io non capisco se questo ci è o ci fa. Ma che vuole? Vabbè. Comunque, volevo dirvi, ragazzi, che non sarò finito con voi e ne falso. Ho fatto circa una ventina di minuti, poco meno, un quarto d'ora, sedici minuti di prova, fino a riuscire a piazzare il giro giusto. Ho il presentimento, che sarà una gara lunga, condita da tanti, tanti, tanti flashback, per essere precisi, due episodi fa, quello della gara dei Bahrain, quello Follia, avevo fatto due flashback durante la gara e uno nell'ultimo giro, prima della squalifica, per vedere se magari facendo un flashback si riusciva a risolvere qualcosa, ma no. Quindi, giusto per correttezza. Io credo che qua sarà una gara tra i 5, 5, 7, 8 flashback, dovrei riuscire a stare sotto la decina, non lo so, ma ripeto, non mi importa molto di questo, c'è, è un'opzione di gioco e la uso, quindi mi va bene così. Non dobbiamo puntare a vincere con la mattone squadra corse adesso, non dovrò puntare a vincere più avanti, però dobbiamo fare un buon risultato. Se riusciamo ad arrivare ai quattordicesimi, bene. Io, ripeto, sarà che il Bahrain riesca a correre più veloce che qua? Non lo so. Forse non siamo veloci sul giro secco, ma siamo più costanti. Lo vedremo in gara, ragazzi, quindi restate con me. Abbiate quella pazienza di qualche secondo, filmato introduttivo e poi giù in gara. Stiamo ad assistere a momenti altrettanto esaltanti? È tutto esaurito, con 140.000 spettatori oggi. Stiamo aspettando il semaforo verde per lo scatto sui primi 730 metri, fino alla prima staccata su questo circuito da 4,7 km. Sorpassare è molto difficile lungo queste 16 curve, ma la velocità non mancherà di certo. Basti pensare a curva 3 e all'impressionante curva cieca. Numero 9. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Il giro perfetto di ieri di Lewis Hamilton gli è valso la pole position e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni. Verstappen, Leclerc, Sebastian Vettel e Albon, Sainz, Ricciardo, Perez e Lando Norris. Ocon, Stroll, Romain Grosjean e Gasly. Kiat, Lombardo, Keme Raikkonen e Antonio Giovinazzi, Magnussen, Giotto, Russell e Nicolas Latifi. E' quasi arrivata l'ora di partire. Le luci del semaforo si spegneranno e daranno vita al Gran Premio di oggi. Ok ragazzi, non vi ho salutato dalla webcam, però va bene, come se l'avessi fatto. Allora, siamo in gara, quindi per evitare il problema dell'altra volta, entriamo, modifica strategia. Magari, allora qui, come vedete, le gomme obbligatorie sono le hard e le medie. Io credo che l'altra volta il bug si è dovuto dal fatto che la gomma, quella obbligatoria, magari adesso vi faccio un piccolo ingrandimento. Vedete che è illuminata la media e non la hard, l'altra volta mi sa che era al contrario. Mi sembra una gran cagata. Allora, io per onde evitare il problema faccio aggiungo stint. Esatto, faccio delle modifiche. Rimuovo lo stint. Quindi mi dicono, sono 17 giri, 6 con la media, 11 con la, cioè 6 con la soft, 11 con la media, ma se facessimo il contrario, quindi gomma media e poi gomma soft. Ok, proviamo a invertire, mettiamo giù un giro in più. Ragazzi, non pioverà, è anche non troppo stupido mettere il soft dopo, perché vedete che adesso il tempo è soleggiato con un po' di nuvole, dopo il sole andrà via, in teoria, quindi non dovrebbe esserci la pista troppo calda. Sono 33 gradi, 25 la temperatura per l'aria, quindi vediamo, 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 dai ragazzi, oh, in pista con pipigno. Poi fatemi sapere se un domani vorrete vedere questa visuale come on board e non la visuale, quella classica sopra. A me piace, sto iniziando ad abituarmi a guidare così, però mi rendo conto che magari per i video è più carino vedere tutta la, almeno un pezzettino di macchina davanti, quindi. Fatemi sapere nei commenti, io adesso parto sperando di non finire tra quattro ore e vorrei dire che avrò fatto pochi flashback. Stiamo battagliando con un po' tutti. Abbiamo rimesso dietro Kiviat. Reazione all'ultimo. Proviamo l'affondo su Krojan, la staccatona di pipigno. Profonda, eh, lo so. Grazie Alex. Ma io ve lo dico ragazzi, non ho per niente buone sensazioni. Qua freno troppo, freno troppo prima, errore mio, errore di pipigno. Mamma mia. Rojan è lì. Rojan è lì. Rojan è lì. Proverà l'affondo? No, no, è dietro, è dietro. Rimane dietro. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone di DRS. Occhio. Occhio a Rojan. Siamo stati toccati da Rojan. Io non è che posso smaterializzarmi dal nulla. Voglio dire... Voglio dire... Vì... Lunghi, lunghi, lunghi Occhio, occhio Rojan Occhio Occhio qui ragazzi Abbiamo commesso un mezz'errore Rojan ci ha letteralmente distrutto Buttandoci fuori Sedicesimi Peccato Abbiamo già due secondi Su Räikkönen davanti a noi Però Stranamente È già un paio di giri che facciamo bene nell'ultimo settore Quindi impediamo un po' A Kiviat di portarci l'attacco Nelle nostre confronti Si ravvicina durante i primi due settori Dove la MSC001 Fa un po' fatica a tenere l'aderenza E la velocità Lo so Lo so Ok Andiamo di grassa allora Ok Luca Giotto ha voluto fare la strategia soft medie Quindi si è fermato Ero davanti Sebastian Vettel Ah Larghi Larghi Occhio A Kiviat Proviamo l'incrocio Ci tocchiamo Ah peccato Peccato Siamo andati larghi Lì Kiviat si ferma i box Noi andiamo Adesso sei nella top ten Continua così Settimi Probabilmente sesti Se riusciamo a farlo Il so passo su Albon Gli lasciamo spazio all'interno Perché Non vogliamo andare a rovinare La gara di chi È molto più avanti di noi Riusciamo sempre ad andare larghe Quella curva È inutile attaccare La Red Bull di Albon Abbiamo detto La McLaren di Carlos Sainz Dobbiamo spingere Quanto più possibile Se pensi di poterci riuscire Attiva la modalità sorpasso E mostra di che pasta sei fatto Che cazzo dici Alex Che cazzo dici Guarda che mi hai fatto andare lungo Alex Alex Mi deconcentra Santo Dio Mandiera gialla Mandiera verde Ok Niente Occhio a sto cordolo qua Ocon Sevi di car Sevi di car Sevi di car Eh si Ma guarda Vai 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 Andiamo subito a fermarci E mettere le soft Riduci la velocità Il delta è troppo basso E rischiamo una penalità Rallenta immediatamente Guarda sevi di car Comunque Occhio alle penalità Occhio alle penalità Mi avrebbero fatto entrare il giro dopo Ma sinceramente Ho preferito entrare subito Posso fare una cazzata Non ho ben capito Nooo Vorrei non commentare La sosta ai boss Che ci ha portato Ventesimi E' stato un errore mio? Non ho capito Era meglio che non entrava La Sepeti Allora Era meglio che non entrava La Sepeti Porca puttana ragazzi Abbiamo dietro la Tifi Magrus Arras Giovinazzi Mamma mia Mamma mia ragazzi Mamma mia Sarà stato un errore mio È probabile Probabile Abbiamo dietro Strole Basta Prepariamoci a riprendere In questo giro Ok Tutto per tutto Ragazzi Tutto per tutto Non possiamo fare nient'altro Che tirare al massimo Lattifici Inchiode In faccia Per altri cinque giri Ok Ok Il distacco è 1,8 secondi Ok La Tifi L'abbiamo superato Ok Sotto con Giovinazzi Abbiamo carburato Sufficienza Per soli due giri Sei all'ultimo giro Occhio all'ultimo giro Staccata profonda Di Pipigno Che vuole tenersi dietro Strole Che cosa ci fa Strole Così in fondo Lo sa solo lui Forse è un errore di strategia Un po' come Pipigno Però l'errore Non è del muretto L'errore probabilmente È tutto di Pipigno Che non ha capito bene Quello che gli è stato chiesto Di fare Purtroppo Magnussen Se ne è andato Insieme a Russell Male una Williams Davanti a noi Malissimo Arriva vicinissimo A Magnussen Sto schiacciando tasti a caso Che gara del cavolo ragazzi Che schifo Che schifo ragazzi Che schifo Lo giro ho fatto cagare io Pilota del giorno Kimi Raikkonen Ma Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che schifo Mamma mia Ok ragazzi Gara da buttare Errore mio Probabilmente Non ho capito Esattamente Qual era L'altra strategia Che La scuderia Mi aveva detto Dopo la safety car Fatto sa che Fino alla safety car Ovvero Un giro prima Due giri prima Della sosta prevista Non stava andando malissimo Eravamo ottavi Ottavi O Sì Dovrebbe essere Da settimo all'ottavo posto Con dei distacchi Che probabilmente Ci permettevano Di rientrare Tra la dodicesima E la tredicesima Posizione Credo Errore mio Che non ho notato Che si stava andando A cambiare anche L'alettone Pirla io Pirla io E Ok È tutto un po' più complesso Con il volante Però Questa è una complessità mia Che devo Mi devo svegliare fuori Bravissimo Luca Che ne ha approfittato Di tutto questo Invece Facendo la sua Strategia normale Era entrato Mi sembra due giri Prima della safety car Quindi è riuscito anche A Non devastare Completamente Le gomme Prima di essa Bravo Sto facendo Buoni risultati Quindicesimo E diciannovesimo Io Non sono riuscito A fare meglio Peccato Avevo dietro Luca Luca è riuscito a mettere dietro Tutti quelli che doveva A parte Kimi Che è andato più veloce Grosjean Che stava andando più veloce Gasly Che alla fine È riuscito a fare Una buona Undicesima posizione La prima Delle Della Fatauri Quindi Bravo così Ragazzi Non so che dirvi Andiamo avanti Ha girato anche più veloci di noi Luca Come giro Come miglior giro Di un decimo e mezzo Quindi bravo C'è la tua paga oggi È stato molto bravo Ok Luca molto bene Noi molto bene Si fa per dire Siamo riusciti ad andare a livello 6 Esatto Perfetto Bravi tutti Abbiamo risposto Ai weekend di gara È arrivato in top 14 Ah può arrivarci anche Luca Oh beh Oh beh Allora si fanno i soldi ragazzi Questa è una roba che non avevo capito Che non era un Effettivamente il bonus è della scuderia Quindi Chiunque dei due arrivi prima Bravo Luca Bravo Ok ci sarà un'altra pausa stagionale Perché Ripeto Siamo sempre solamente A dieci Gran premi Siamo già al terzo Quindi è normale Andrò a sistemare l'attività La ricerca e sviluppo Abbiamo 1320 punti Da spendere Tutto e per tutto Sulla macchina Ragazzi Qui Qui non c'entra niente Codemasters Non ci sono stati bug Ci sono stato solo io La pessima prestazione Il prossimo è Gran Premio del Canada Quindi un altro Gran Premio Abbastanza interessante Vedremo Vedremo Luca sta migliorando Continuamente Io spero che continui così Perché È molto bravo Sta guadagnandosi Delle buone prestazioni Ci sta dando anche Dei buoni punti In fase di sviluppo Perché quei punti di sviluppo Sono sia nostri Che suoi Che è una meccanica Corretta Cioè alla fine della fiera Lo sviluppo della macchina È fatto da entrambi i piloti Quindi è giusto anche così Io ragazzi Vi ringrazio Per avervi seguito fin qui Ah Piccola precisazione Ho usato Sette O sei flashback Sette o sei Ora non ricordo Penso Diciamo sette Per non sbagliare Sì Un paio Per Errori miei Un altro paio Per nervosismo Insomma Poi quando ho visto Che è andata È andata completamente A puttane la gara Ci ho visto poco Ci ho visto poco Bella la via Anche sul Sul musetto Mi piace Mi piace Ne fatevo che il telefono Suona nel momento Meno opportuno Io vi ringrazio Per avermi seguito fin qui Vi ricordo di lasciare un bel like Un commento E di iscrivervi Se non l'avete ancora fatto Dalla mattona Le squadra corsa È tutto Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima